Passiamo alla cultura, il sassarese Elias Satta crea maschere e oggetti di scena tratti da film famosi. Il servizio è di Emanuele Floris. Sognando Hollywood dal proprio laboratorio a Sassari, Elias Satta crea maschere e oggetti di scena ispirati a celebri film, seguendo una vocazione nata molti anni fa. La persona per le maschere è nata con il Carnevale. Il Carnevale mi è sempre piaciuto vestirmi in maniera migliore o più stravagante degli altri. E quindi ho iniziato con piccole protesi da applicare sul viso fino a realizzare poi una maschera completa. Oggi il suo profilo social, le maschere di Naoto, ispirato all'uomo tigre, è seguito da migliaia di persone che amano, tra le altre, le maschere di Batman, il Pinguino, Chucky e Robocob. E ne vorrebbero soprattutto due. Diciamo che il bastone di John Hammond, di Jurassic Park e la maschera dell'uomo tigre sono stati sicuramente i primi oggetti che mi hanno reso, tra virgolette, famoso. I fan di Elias vengono in particolare dall'Europa e dal continente americano. Mi manca solo l'Africa e i continenti li abbiamo raggiunti tutti, compresa l'Australia, Cina e veramente siamo andati oltre. Ma per il creatore di Le Maschere di Naoto questo è solo l'inizio. Ho molto da imparare, ho bisogno di mettere ancora molta carne al fuoco, però mi piacerebbe prima o poi collaborare con l'industria cinematografica, negli effetti speciali, insomma, lavorare con una produzione cinematografica vecchio stampo.